Ciao a tutti, sono Barbixanax e mi sono calata nel personaggio di un supereroe, no non è vero Ieri sono andata all'anteprima di Batman vs Superman Dico di Harry Harry, sempre se faccio in tappa a pubblicare questo video oggi Speriamo, speriamo Questa sarà un'anteprima di commenti a caldo In cui vi farò vedere anche delle cose che ho ricevuto all'anteprima Vi parlerò dell'anteprima perché sono successe delle cose assurde Quindi per non fare diventare la recensione tipo una cosa che durava 4 ore e mezzo più del film stesso Ho detto vabbè, dividiamo i video, facciamo prima questa impressione a caldo Anche perché nella mia recensione volevo fare degli spoiler Però non volevo fare spoiler Perché so che poi c'è sempre quello l'antipatico che guarda lo spoiler e va a spoilerare agli amici Non ci stai simpatico, non ci stai per niente simpatico Quindi ho deciso di raccontarvi tutto di come è stato l'anteprima Avevo ricevuto tutta questa cosa Vi farò vedere cosa contiene di questa fantastica bussa Che ne ho ricarato, sinceramente mi piace già la bussa Già se c'era solamente la bussa vuota così mi sarei sentita tutto Oh scusate, sono una vip Non è vero Vi farò fare la mia stessa impressione Poi vi parlerò anche del film Però prima le cose importanti Ovvero cosa c'è dentro la bussa Ci sono le batterie Uno davanti a me ha fatto Ma ci sono le batterie anche nella vostra bussa Ma c'è un giocattolo dentro No, non c'era niente Ah ma che poi non sono nemmeno le stilo Ma sono le mini stilo Eh, quelle che uso proprio poco io Non avevo visto, credo fossero le stilo Vabbè, c'è stato un attimo di delusione Però le batterie fanno sempre comodo Si usa tutto, si usa tutto E insomma ci sono i gadget di Batman Inoltre c'è questo Credente, mentre aspettavo il film Ha iniziato a mangiarseli Stavano proprio C'erano questi cereali Con Superman E dietro c'è Batman e Superman E in regalo un libro giochi Ah, quindi dentro c'è un libro giochi Oh, carino Non so che cosa ci faccio Forse sono fuori tempo massimo Io questi cereali Non so se li ho mai assaggiati o no Che sono finti biscotti Poi sempre dentro la bussa C'era questa Che sono un pacchetto di patatine Di Batman e Superman Con due tatuoi in ogni pacchetto Wow Ora mi faccio i tatuaggi temporali Tipo in faccia di Batman Vorrebbe ridere Per la recensione Mettato tipo qua in faccia Da una parte Batman Dall'altra Superman Che vola C'è solo uno con Wonder Woman Ma vabbè Ah no due Però non è singola Vabbè Non era la protagonista Del titolo del film Quindi ci sta Poi altre cose che ci sono Sono le Big Bubble Con Batman Io all'inizio ho visto Tutti gli altri che aprivano la bussa E trovavano queste Big Bubble E ho fatto Ma io non le vedo Vuoi scommette Che a me si sono dimenticati di metterlo Giù stavo lì a dire Sono la solita sfigata Eccetera eccetera In realtà non le avevo viste C'erano Non so a che gusto siano Da quelli che avevo visto Da quelli vicino Era gialla Ah è Roma con la lemon Wow Non vedo l'ora di assaggiarla Però è figo così Potrei anche tenerle Tipo venderla Sui Bane Ai nerd Tra 30 anni Andare da Less Gold E direi Vale a un miliardo di soldi Un adesivo di Batman In omaggio Bu Ma il pazzo forte È questo Tararà Non so se lo vedete Oh che figli Questi non sono Quegli occhiali 3D Che comunque vi fanno male la testa Quando li mettete Allora Ora che sto così Ho veramente un aspetto Molto molto professionale Questi sono occhiali 3D E c'erano i tre modelli Questa è la nuova rivoluzione La nuova cosa 3D Che è Real D Che è una nuova tecnologia Per il 3D Essenzialmente gli occhiali Non sono quelli tristi Super super cheap Avete presente Ve li mettete Per vedere le corne Così C'erano quelli tre protagonisti Del film Quindi c'era l'occhiale Batman Tutti volevano quello C'era l'occhiale Superman Che quindi Si accontentavano E poi c'era l'occhiale Wonder Woman Che non voleva nessuno Io sono andato dagli E ho fatto Scusi potrei avere L'occhiale di Wonder Woman Quello mi ha dato proprio quello E ho fatto Oh guarda Adesso c'è stato solo questi E so vanno dentro una bustina Che era questo Batman vs Superman Che con Batman e Superman Che figo C'è anche scritto Indossare questi con occhiali da sole Non vi proteggerà gli occhi Da le raggine del sole Beh chi credo Ma chi è che è veramente Però sarebbero fighi Degli occhiali da sole così E io li comprerei Molto probabilmente Qui c'è scritto Batman vs Superman Dodo Justice Insomma molti erano molto Un pochino deludi Dal fatto che ieri Erano toccati gli occhiali Di Wonder Woman Erano i più fighi C'è poco da fare Ma ora vi parlerò Dell'anteprima Allora io sono andata lì Non ho potuto fare foto Perché subito Appena sono entrata C'era il manifesto Insomma con Batman vs Superman Dove voi Potevate fare la foto Da soli Cioè in mezzo ai due Però io ero da sola E quindi mi vergognavo A farmi la foto tipo selfie Così da sola Mi sarei sentita In imbarazzo C'era tutta la gente Mi sarei sentita Un po' una crudina Quindi non l'ho fatto Invece era una cosa carina Che avrei voluto fare Però per la timidezza Non l'ho fatto Però magari se c'era qualcuno Che mi faceva la foto Forse pure pure Però posso fermare la gente Scusa mi fa adesso una foto Cioè mi vergogno E quindi non l'ho fatta Mi trovate e vi imbustavano Il cellulare Dovate spengere il cellulare E qui ecco la tenente Colombo Che c'è in me Eccola prova L'evidence number 5 In cui mettevate il coso Il terapia Non potevate tirarlo fuori C'erano le cose Delle persone Che insomma controllavano Che nessuno registrasse cose C'era anche il metal detector Così che controllava Seva dei dispositivi elettronici Uuuu E' stato molto molto Strano Addirittura un tizio Seduto vicino a me Aveva il contapassi Tipo quel braccialetto Così non so come si Si chiama E gli hanno fatto Ha delle batterie Eccetera eccetera Insomma Era tutto molto 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 Controllato Ora aspetta e vogliamo un attimo Dell'anteprima Chi ho visto all'anteprima Poi dopo vi parlo del film Per dirvi qualche consiglio Però ve la dovevo raccontare Questa cosa La dovevo raccontare qualcuno Allora io sono andata all'anteprima Ero super super felice ovviamente Mi sono seduta da una parte Quindi boh Era arrivata abbastanza presto Stranamente Visto che io sono Una ritarda Ataria cronica Allora che ho visto all'anteprima Il primo Diciamo personaggio Noto Che almeno Noto Alla sottoscritta Che conoscevo Ho visto il tizio Dei Flaminio Maffet Non so Adesso che fa l'attore Una roba del genere Non mi ricordo E c'ha fatto un look Un po' alla Notorious Big Sto cappellino chic Gli occhiali da sole dentro Sto cinema Mezzo buio Insomma Era un look un po' così Poi che cosa ho visto Ho visto Zero calcare Che mi ha fatto sentire più a mio agio Perché c'erano alcuni Che erano vestiti veramente chic Io mi vesto sempre male Su queste cose Quindi mi vesto sempre nero C'hanno jeans neri Ma il mio nero Ho detto Nero fa subito il ragazzo Per quanto non sapete come vestirvi Nero Cosa che non sia una tuta nera Fa subire l'eleganza Quindi stavo lì Quando ho visto lui Che c'aveva tipo Una felpa Con il cappuccio rossa Scolorita Mi sono sentita subito a casa Volevo quasi fare una foto insieme Però l'unica volta in cui Diciamo Era tipo vicino Nella mia traiettoria E stavo chiedendo Per andare in bagno Quindi Ho fatto da fare la foto Oltre a tutto Non so se avrei avuto il coraggio Mi sarei sentita Un po' in imbarazzo Tipo Ma che vuole questa da me Ma chi è questa Ma chi è una roba così Poi che cosa ho visto Ah ecco Altra cosa che vi volevo dire C'era praticamente gente vicina a me Ah ecco Un'altra cosa Un'altra cosa che vi volevo dire A un certo punto Stavo seduta Aspettavo il mio turno Insomma Stavo lì da sola Non potevo parlare con nessuno Mi guardavo intorno A un certo punto Vedo volare delle cose Qui al lato E vedo Tipo stelle cadenti così Dico Boh ma che roba è questa Quindi ho detto Boh magari non ci vedo bene io Cioè sono stanca Magari C'ho le visioni Insomma c'era una tizia Molto molto lontana Che è messa a battire Popcorn addosso Fino a che non m'ha beccato Stasignano c'aveva pure 40 anni C'è una cosa così Però se vedete Boh ho mai riconosciuto E non gli stavo tanto simpatica Un po' Non lo so Ma soprattutto Puoi andare avanti Prima di compri popcorn Ma stiamo scherzando Va bene A parte questo C'è stata una cosa molto divertente Sui tizi seduti Nel mio perimetro Insomma Perché io praticamente Stavo seduta dopo Qui c'era tipo una passerella Io stavo seduta davanti A un certo punto Entra Luca Vecchi Dei De Pils Con la tizia Che ne so Una tizia Una amica Cavolo ne so Ma quelli vicini Fanno Oh ma quello Non è quello Dei De Pils Insomma A un certo punto Poi entra Un'altra persona Che sta seduta davanti Che non era Luca Vecchi Però c'hava lo stesso look Per barba Capelli neri E occhiali Pintando lo stesso look Per questo E in pratica Quelli vicini Hanno detto Vedi è quello Quello Dei De Pils Che sta seduta davanti Era un'altra persona Non l'hanno riconosciuto Poi non sono sicura Ma forse Ho visto anche Recchioni Recchioni Che non mi può vedere Perché io sono La sua regina George Per Recchioni Però non so Se era Recchioni O Demo Morselli Non ne sono molto certa Lo dico seriamente Non li riesco a distinguere Sono simili Ma a parte queste cose Di vitale importanza Iniziamo subito A parlare del film Allora 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 So subito Che inizierà La diatriba Tra DC e Marvel Ce la porteremo dietro Fino a quando farò Il video della recensione Del film Me lo sento Ma iniziamo subito Batman vs Superman Allora Prima di tutto C'è la scelta del cast La scelta del cast Ben Affleck Ben Affleck è stato Super criticato Prima ancora Di iniziare La lavorazione Del film Tutti l'hanno Sfernacchiato Perché insomma Dicevano che ha rovinato Praticamente Qualsiasi supereroe Daredevil Ne stavo parlando Qualche mese fa Con un mio amico E dicevamo Quanto fosse brutto Il film di Daredevil E anche il film Di Electra Quello da vecchissimo Che c'era Ben Affleck Che faceva il problema Unista Era veramente Terrificante Con Colin Farrell Poi che c'era Mamma mia Mamma mia E cosa ne penso Della scelta del cast Vedendo il film Ci sta Però non vi posso dire Oltre perché altrimenti Vi farei spoiler Però ci sta Secondo me Però Ho dei dubbi Un pochino in generale Sul cast Se andate al cinema Per vedere Wonder Woman Sappiate che Non è la protagonista Del film Non è stata Sia nei poster Così La sua parte È abbastanza marginale Però il film È Batman Verso Superman Quindi per forza Di cose I protagonisti Sono loro Jess Eisenberg A me è piaciuto Un botto Secondo me Ha letteralmente Oscurato tutti All'interno del film For me For my little opinion Ma lui è molto Molto bravo A me era piaciuto General The Social Network L'avevo visto anche In Zombieland Lui è così Così carino L'avevo incontrato Anche al festival Del cinema di Roma Ed era così carino Così gentile Fantastico 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 La regia Mi è piaciuta molto Il montaggio Secondo me È veramente figo Ci sono delle scene action Il film inizia Veramente col botto Per quanto riguarda L'action Gli effetti visivi Sono assolutamente La cosa che la fa Da padrone Quindi per questo Io vi dico I film Molto spesso Mi dite delle cose Che io Faccio finta Di non sentire Ovviamente So che voi Non guardate i film Illegalmente Però onestamente Un film action Visto Sul computer Con le casse Da 30 euro Ma anche con il Super mega dolby Surround Non è la stessa cosa I film action Vanno visti al cinema Fidatevi Non se ne esce Perché l'audio Che avete a casa Non è paragonabile A quello del cinema Altrimenti il cinema Se fosse uguale All'audio Che avete a casa Metterebbe Dei piccoli Cosini Grandi cosi Per dentro una stalla Abbiamo fatto Abbiamo fatto un cinema Non è così Inoltre il 3d E' veramente carino Il 3d Secondo me Più all'inizio Poi non lo so Perché Ma secondo me Quasi tutti i 3d All'inizio Partono col botto Poi man mano Sempre meno Sempre meno Sempre meno Però secondo me Vederlo in 3d E' molto più coinvolgente Per me Le musiche sono Boom Però vabbè C'è Hans Zimmer Che non ne sbaglia una Hans Zimmer Secondo me E' molto 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 bravo Secondo me Anche secondo Tutti gli Oscar Riconoscimenti Che ha avuto Degli anni Lui è molto molto bravo Sono dei momenti In cui è veramente Fondamentale la musica Diciamo Il protagonista Quasi conto In Mad Max Ovvero veramente Tamburellante 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 Però è principalmente Questo un film d'azione Quindi se non vi piacciono I film d'azione Molto probabilmente Non vi piacerà Questo film Mi è piaciuto Perché Ha delle letture Anche molto molto Contemporanee Per quanto riguarda La politica Voi dovete sapere Che i film d'azione Non sono prettamente Politici Però volendo No Dovono sempre Dispecchiare qualcosa Di molto attuale In la diatriba Batman Verso Superman Un alieno immigrato Contro un umano Insomma Ci sono molte cose Attuali al momento Ci sono i colpi di cena Sì Ho abbassato un po' la luce Scusate Ci sono sempre I soliti problemi C'erano molte persone Non concordavano Con la storia Perché non attinente Alla storia dei fumetti Eccetera eccetera Io su questa cosa Non vi so dire Perché non ne so Abbastanza Io sinceramente Avrei preferito Un casting In generale Più giovane Onestamente A parte Enrique Avil Carino 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 Però secondo me Era molto più carino In Operazione Uncol Qui secondo me Non lo so E' meno figo Non lo so L'aveva invecchiato In due anni Tipo distrutto Però non lo so E' più carino Come Clark Kent Rispetto a Superman Invece secondo me Come Clark Kent Dovrebbe essere Una bellezza Un pochino Più dimessa Invece come Superman Tipo Oh Il figo del mondo Avrei preferito Sì a parte lui Un cast Più giovane Onestamente Secondo me Il pianeta Dei supereroi Dovrebbe essere Qualcosa Di Giovane Lo so E' brutto da dire Però per giovani Intendo veramente Giovanissimi Massimo 30 anni Scelte di cast Come Amy Adams Secondo me Sono Io sinceramente Non lo ritengo Ottinente Al mondo Dei supereroi Secondo me Come vi ho detto Devono essere Non dico un archetipo I supereroi Però qualcosa del genere Devono essere qualcosa Fisso Devono dare il senso Di potenza È difficile dare Nel senso di potenza E di autorità A una persona Che non Diciamo Ha perso La parte più importante Della sua vita Che è la gioventù E quindi Non lo so Vorrei farvi un'analisi Più approfondita Però ve ne parlerò In un video Al riguardo Perché ci sono Degli spoiler Da fare Vi devo commentare Delle cose Ed è spoiler Ovviamente Quindi non vorrei Farvelo subito Perché come vedete Ci sono sempre Quelli che vogliono fare Spoiler Spoiler La gente Sono cattivi Io sinceramente Vi consiglio Di andare a vedere Al cinaco La regia A me è piaciuta Molto Possiamo parlarne Magari dopo Della storia Se convenita O meno Però non lo so Io non essendo Proprio un'esperta Un'esperta di comics Capisco Che magari La mia opinione Può avere Dei limiti Oggettivi Perché magari Boh la fonte Era migliore Non lo so Ci potrebbero essere Dei punti interrogativi Avrei tanto da dire Su Batman Veramente tanto Io sinceramente Sono team Wonder Woman Anche se Sinceramente La scelta Del casting Si mi è piaciuta Però non lo so Io ho Linda Carter Rimane nel mio cuore Avrei voluto tantissimo Che si facesse Il film Wonder Woman Che doveva fare George Miller Con Meghan Gale E Meghan Gale Sarebbe stata Wonder Woman Avrei amato Alla follia Il look di Wonder Woman Che fa molto Britney Spears Nella pubblicità Della Pepsi Ok Però Non lo so Non mi convince Secondo me L'aspetto patriottico È molto venuto meno Nei supereroi Forse Non lo so Non ho visto Tutta la lunga trilogia Di Capitano American Che forse è molto più Patriottico Lunga trilogia Di Capitano American Che forse è molto più Patriottico Ora sinceramente Sono molto curiosa Di vedere i seguiti Voglio vedere Se magari esce fuori Come ho visto Nelle immagini C'erano Nelle immagini Intanto di disegni Vabbè Devo capire Perché altrimenti Immagina Tipo foto dal set Rubate No Disegni Insomma Avranno fatto vedere Che potevano Magari infilarci Dentro anche Lanterna Verde Lanterna Verde È il mio supereroe preferito Sinceramente Mi piace tantissimo È sfigato per tutti Ho visto il film In aereo È stata un'esperienza Terrificante Non sono nemmeno Riuscita a finire Di vederlo Perché era terrificante Quel film È la cosa più brutta Che io abbia mai visto Credo il film È più brutto Sui supereroi mai fatto Non lo so Anche Green Hornet È veramente Brutto Brutto Vi voglio fare una recensione Più approfondita Però non vi voglio Far spoiler così Al volo Noi ci vediamo Ad un prossimo video Voi fatemi sapere Per quale team siete Soprattutto Team Superman Team Batman O Team Wonder Woman Non fate spoiler Qui sotto Per favore Ce li riserviamo tutti Per il video Spoiler Oh io Mi ho preso Tipo Un crap Mi ho preso Tipo un crap Un po' a nervo Questa è perché Ho detto una parola Magica Spoiler Va bene Noi ci vediamo Ad un prossimo video Prima che parta Definitivamente E ciao a tutti Da Barbexana